Buonasera e buon sabato, buonasera a Cocina De Gregorio e buonasera al nostro ospite Matteo Renzi collegato da Firenze con il suo libro Il mostro che ha scalato tutte le classifiche dei mostri sacri anche della saggistica e quindi al primo posto inchieste scandali e dossier, ne parleremo perché è un libro davvero ricco di notizie, di nomi, manca peraltro, questo ve lo diciamo subito, l'indice dei nomi in fondo, forse per evitare querele preventive, cioè per invitare le persone ad acquistare il libro e a leggerlo anziché andare a vedere. Sai che questa è una tecnica a cui non avevo pensato, per vedere se ci sei lo devi comprare. Allora però, però ancora non mi ha correlato nessuno Parenzo, forse non l'hanno ancora letto tutti, era la prima domanda. Però arriviamo subito, centunesimo giorno di guerra, Kiev dice nuovi colloqui, nuovi colloqui solo dopo il nostro rafforzamento sul campo, dovremmo chiederci che cosa significa questo, la guerra continuerà ancora a lungo in vista soprattutto del 21 giugno quando il presidente Draghi riferirà al Senato e questo sarà una sorta di stress test per la maggioranza. Ma intanto, e da qui partiamo, la notizia dell'ultimo minuto, Mosca muove un nuovo attacco all'Italia, dice Mosca c'è una campagna sui media italiani contro di noi e i cittadini russi sono discriminati. È arrivata pochi secondi fa la replica del ministro degli esteri Di Maio che ha detto, ma insomma qui di che cosa state parlando? Basta mistificare la realtà e le provocazioni dall'Italia, nessuna campagna anti-russi. Io però voglio subito chiedere a Matteo Renzi questo, perché secondo lei in questa fase il governo russo ha preso di mira, questa è una questione peraltro molto seria, ha preso di mira il nostro paese e l'Italia che è in fondo il paese che più sta anche ospitando opinioni difformi, è il paese in cui in televisione a torto o a ragione vengono spesso indicati e invitate persone anche vicine al governo russo. Come si spiega allora questa vehemenza e questa violenza verbale nei nostri confronti secondo lei? Io non vedo una particolare violenza verbale contro di noi o di altri, la vera violenza è quella fisica, l'aggressione territoriale che i russi stanno facendo in Ucraina, ma contemporaneamente c'è un problema, cioè che questa guerra alla fine la perdono tutti. La Russia non la sta vincendo perché Putin si aspettava di chiudere la partita in un paio di settimane ed è al centunesimo giorno, però la guerra non la vincerà neanche ovviamente l'Europa, non la vinceranno nemmeno gli Stati Uniti sul medio periodo, cioè questa è una guerra che è la classica guerra dove alla fine si perde tutti. Ecco perché nel dire che noi non siamo neutrali, noi siamo per dire che Putin è un aggressore, che la Russia è responsabile, nel dire questo però io torno a ciò che stiamo dicendo dal 24 febbraio, occorre anche un'iniziativa diplomatica europea perché altrimenti questa guerra sarà congelata, ibernata durerà anni con prospettive catastrofiche, in primis per la popolazione ucraina, poi per tutto ciò che è il mondo occidentale, non soltanto per l'Ucraina e naturalmente per la Russia perché la Russia sta subendo delle vittime incredibili, poi naturalmente riescono a nasconderle bene come? Attraverso il fatto che spesso i morti, molto sovente, non sono di Mosca o di San Pietroburgo, sono ragazzi che vengono dalle repubbliche più lontane, quelle di cui si parla meno, quelle più nascoste ai nostri occhi, ma insomma è una situazione di sconfitta per tutti. Lei pensi soltanto carestia, problemi energetici, migrazione, recessione mondiale. Il capo di JP Morgan ha detto che sta arrivando un uragano, se lo dice il capo di JP Morgan c'è da preoccuparsi. Santa Renzi, restiamo ancora alla politica estera ma andiamo sul piano dei servizi segreti, così scivoliamo lentamente alle pagine del suo libro. Oggi un portavoce del Ministero degli Esteri russo ha detto che gli italiani hanno dimenticato i nostri aiuti, i politici di questo paese, cioè i politici italiani hanno un basso carattere morale. Questa frase ha fatto riflettere perché il riferimento alla moralità può far pensare che ci siano delle informazioni, le informazioni precise che i servizi segreti russi hanno sulla moralità dei politici italiani. A questa frase si ricorderà quella dell'ambasciatore Razov che disse stanno mordendo la mano che gli avevamo teso. E si riferiva a quel famoso 2020, l'episodio famoso del 2020, di cui lei parla approfonditamente nel libro quando arrivò a quella strana delegazione. Io vedo due vicende diverse. Da un lato vedo il problema della vicenda del Covid, dove il governo italiano avrebbe dovuto chiarire meglio i contorni della missione russa e anche altre vicende, le mascherine, i ventilatori cinesi, tutto il tema dei banchi a rotelle, lo spalanzani e ciò che è accaduto sul vaccino. Ci sono troppe cose che non tornano in quella vicenda. Una parte di quelle cose che non tornano, come giustamente diceva lei, si intersecano con la missione russa, su cui Conte non ha mai fatto chiarezza fino in fondo. Ora che questo poi provochi dei comunicati come quello dell'ambasciata russa in Italia o del Ministero degli Esteri russo, non so quale sia il collegamento, non ho più ovviamente da qualche anno informazioni, come è doveroso che sia, non essendo più Presidente del Consiglio, da parte dei servizi. Però il punto centrale, secondo me, è che quella vicenda ha un tratto di oscurità da parte dell'allora governo italiano. Detto questo, noi dobbiamo essere molto chiari, i russi sono i responsabili di ciò che sta avvenendo in Ucraina e ogni elemento diversivo può appassionare noi, ma qui stanno morendo e continuano a morire migliaia di persone. Siamo tutti molto curiosi di sapere per esempio in cosa consiste quello scambio di informazioni del famoso patto tra il partito di Putin e il partito di Salvini, siamo molto curiosi di sapere qual è la ragione di questo vincolo che lega alcuni politici italiani alla Russia e mi domando anche come mai il Copasir per esempio si sia interessato della questione degli ospiti in TV, il Copasir come lei sa benissimo e anche i nostri ascoltatori si occupa del controllo sui servizi segreti, è come se ci fosse sempre un po' l'odore delle spie. Allora, a proposito dei servizi segreti, le voglio fare una domanda perché lei nel suo libro fa nomi e cognomi, ce lo dicevamo con David prima di entrare, fa molto coraggiosamente tutti i nomi e i cognomi, per esempio quello di Marco Minniti, lei nomina diverse volte Marco Minniti, la prima volta per dire che voleva presentarle il magistrato Creazzo che poi avrebbe preso in carico la sua inchiesta e poi altre volte a proposito della nomina del capitano ultimo quando Minniti aveva la delega ai servizi. Ci sono due o tre occasioni in cui lei lascia intendere che non era chiarissimo il suo ruolo, che cos'è che non abbiamo capito bene o che non ha finito di dire? Diciamo che sono questioni non collegate alla vicenda russa, io ho lavorato bene con Marco Minniti, poi ci sono emerse delle cose che non sono state per me molto chiare, per essere espliciti. A un certo punto vengono portati dentro i servizi segreti dei personaggi, lei faceva riferimento per esempio il capitano ultimo, con l'obiettivo dichiarato che io avevo dato alle istituzioni, ero allora presidente del Consiglio, di andare a prendere Matteo Messina Denaro. Io infatti ritengo che questo paese svolterà nella lotta contro la mafia, che continua a essere una priorità anche se non se ne parla più, quando il nuovo boss dei boss, il nuovo capo dei capi che è Matteo Messina Denaro, ormai da qualche anno, sarà finalmente preso e allora le informazioni erano chiare, che egli fosse nel Trapanese, che fosse comunque coperto da una rete di connivenze e quindi la cosa che avevo chiesto ai servizi segreti, se era costi quel che costi andiamo a prenderlo. Allora mi fu rappresentata un'idea di andare a prendere Messina Denaro attraverso Ultimo ed altre persone che stranamente poi finirono all'Aise e non all'Aisi. Nel libro racconto passo passo, ma questa cosa con il senno di poi non mi è tornata, tanto è vero che alcuni dei personaggi in questione sono stati accusati di depistaggio e soprattutto la cosa importante è che i servizi segreti qualche mese dopo hanno espulso Ultimo e i suoi dai propri ranghi, è una cosa che non succede quasi mai, quindi è una cosa un po' strana. Ma lei l'ha mai chiesto questo a Miniti? Gli ha mai chiesto conto? Come mai mi hai domandato di fare questa assunzione? Ci sono molte vicende che con il senno di poi tornano un po' poco, per esempio il fatto che quello stesso comandante Ultimo finisca poi a far politica. Ci sono due personaggi in questa vicenda, a proposito dei depistaggi nel capitolo sui servizi del libro Il Mostro, che improvvisamente entrambi finiscono a far politica, al di là che finiscono in partiti contro di me, ma questo è secondario perché anche se fossero andati nel mio partito questo non avrebbe modificato di una virgola, a fare entrambi gli assessori alla legalità. Ultimo in Regione Calabria è scaffato in un comune dell'Interland napoletano. Allora io non è che voglio oggi qui alimentare dei sospetti o delle tensioni, metto in fila una serie di cose che non mi tornano. E questo è il punto, infatti Renzi... Però questo mi lasci dire che non c'entra niente con la vicenda russa. No, no, certo. Eravamo passati al tema dei servizi e al ruolo dei servizi in Italia. Ci mancherebbe, però la questione di fondo che esattamente... Un'altra delle cose a proposito dei servizi che cito nel libro, perché il libro è un insieme di fatti, non troverete una idea, ci sono dei fatti che sono incontrovertibili. La cosa che cito nel libro è che ad esempio a un certo punto emerge una candidatura per il Quirinale, stiamo parlando già del 2022, gennaio 22, quindi già nella fase del governo Draghi, questa candidatura è quella di Franco Frattini, attuale Presidente del Consiglio di Stato. Io racconto, facendo nomi e cognomi, come questa candidatura era percepita da gli amici americani come una candidatura eccessivamente filorussa. Questo è un dato di fatto che sia Enrico Letta che io, nella nostra veste di Presidente del Consiglio, abbiamo avuto modo di verificare personalmente perché. Perché Frattini, per queste ragioni, non è stato fatto segretario. La nostra domanda... Scusami, con una questione di fondo, solo per spiegare anche al pubblico di cosa stiamo parlando. C'è l'impressione, per chi non ha ancora letto questo libro e quindi gli lasciamo la suspense, come dire, della lettura e del giallo, è quello che sia un Renzi un po' naif, no? Cioè un Renzi Boy Scout che arriva nel palazzo delle stanze del potere e a un certo punto si trova una Repubblica opaca in cui da una parte i servizi, dall'altra il governatore della Banca d'Italia, non vi vogliamo svelare tutto perché altrimenti non lo leggete. Ma insomma, un Renzi appunto naif è un po' così in balia di questi pezzi occulti della Repubblica che ogni tanto tramano e in qualche modo... Quindi non è una bella immagine né della politica né delle istituzioni, ma anche lei ne esce un po' come un Boy Scout alla fine. Cosa che è un'immagine che oggettivamente non le si attiene proprio del tutto. Diciamo che non ritengo l'essere un Boy Scout un'offesa, parecchio, capisco che per altri... C'è quella celebre frase di Bernard Shaw che dice che i Boy Scout sono quei cretini vestiti da bambini che accompagnano bambini vestiti da cretini. Io ho un'opinione un po' diversa. Sì, no, ma al di là della battuta. Torno sull'aspetto della sostanza della sua domanda. Io sono stato in questi anni oggetto di una campagna, più o meno frutto anche dei miei errori, giochiamo la partita in modo trasparente, di costruzione di un'immagine come di un personaggio che nel corso degli anni ha brigato con i grandi gruppi finanziari internazionali che era l'oggetto del... che era il soggetto che teneva in mano chissà quale trame, che scriveva chissà quali trame. Quello che racconto nel libro, molto semplicemente, se poi devo fare la figura di quello naif, faccio la figura di quello naif, sono una serie di elementi che tengono insieme dalle indagini giudiziarie alle fake news russe. Nel libro racconto una telefonata con Vladimir Putin, una telefonata con Vladimir Putin in cui gli dico, oh, non è che puoi continuare con Russia Today a raccontare cose che non stanno né in cielo né in terra, mi riferivo a un evento svoltosi in Piazza del Popolo a Roma, a le vicende che venivano citate da lei, dalla Banca d'Italia o che venivano citate da Concidio di Gregorio a proposito delle questioni dei servizi e potrei andare avanti. Questa immagine io ho semplicemente messo in fila dei fatti per cui alla fine di sta storia chi leggerà il libro, che non è una lettura obbligatoria per carità di Dio, o cambia idea su di me o cambia idea sulla istituzione. Allora, mi scusi Renzi, la interrompo un momento, perché va detto che questo libro naturalmente è una appassionata ricostruzione autodifensiva della sua persona e delle inchieste che l'hanno coinvolta, molto documentata, però naturalmente è la sua versione dei fatti. Quello che dicevo in apertura è che diversamente da molti altri libri scritti da politici, in questo libro ci sono tutti i nomi e i cognomi delle persone a cui lei fa riferimento e abbiamo cominciato col parlare di Minniti, ma si parla di Michele Emiliano, si parla di Massimo D'Alema, si parla per esempio della vicenda di Gratteri quando lei salì al colle da Napolitano con Gratteri indicato come ministro della giustizia e Napolitano legittimamente lo depennò da quella lista. Anche lì non ho finito di capire perché lei parla di alti magistrati che fecero pressione, intervennero sul Presidente della Repubblica perché Gratteri non fosse nominato ministro della giustizia, voglio ricordare che voi avevate in comune quel progetto di per esempio sorteggiare per la nomina al CSM che avrebbe quindi fatto pulizia delle correnti. Voglio tornare un momento ai servizi e chiederle qualcosa su Gratteri, i servizi fanno politica in questo Paese, orientano la politica in questo Paese, i servizi segreti in questo Paese sono in questo preciso istante un organismo trasparente o secondo lei non del tutto. E poi se ci racconta come andò con Gratteri. Secondo me gli italiani devono fidarsi delle donne e degli uomini dell'intelligence perché sono nella grande maggioranza delle persone preparate, delle persone competenti e delle persone che ci hanno aiutato in dei momenti incredibili. Ad esempio non soltanto nella liberazione degli ostaggi, talvolta avvenuta anche con modalità che altri Paesi non approvano, ma banalmente i servizi segreti, e io su questo ho lavorato bene con tutti i dirigenti dei servizi e con lo stesso Marco Menniti, hanno svolto un ruolo straordinario tra il 2014 e il 2016 per prevenire attacchi dell'estremismo islamico. Lo dico perché altri Paesi in quegli anni furono oggetto di attacchi devastanti. Voi ricorderete che tra il 2014 e il 2016, cioè nel periodo in cui era la guida del governo, l'Europa fu colpita due volte a Parigi, Charlie Hebdo e in Bataclan, Nizza, Bruxelles, Barcellona, mi pare anche il Regno Unito in quegli anni, adesso mi ricordo se era immediatamente dopo o quando ancora era Presidente del Consiglio, e la Germania. I nostri servizi avevano una capacità, e immagino che l'abbiano ancora adesso, di prevenzione strepitosa. Il fatto che siano adesso guidati da un'autorità politica come Franco Gabrielli non può che essere elemento di consolazione e di tranquillità. Tuttavia, questo è un elemento chiare, quando ci sono delle cose che non tornano, io preferisco sempre metterci la faccia. Sì, naturalmente non parliamo della gestione Gabrielli, Renzi, parliamo degli anni precedenti. No, ma io guardo, lei mi ha chiesto di oggi, lei mi ha chiesto oggi ci possiamo fidare, io dico sì. Oggi nel senso, nel periodo di tempo a cui lei fa riferimento in questo libro. Ci sono stati delle cose che secondo me vanno chiarite. Se io ti dico, vai a prendere Matteo Messina Denaro, mi aspetto che tu vada a prendere Matteo Messina Denaro e non che tu pedini Matteo Renzi. Ecco, ma anche lì c'è bisogno dell'input del Presidente del Consiglio. Scusi, una domanda che le faccio, ma penso che se la stanno facendo i molti. Ma per prendere Messina Denaro, c'è bisogno che l'input venga dal Presidente del Consiglio? Oppure è una priorità di tutti, della destra, della sinistra, del centro, di qualsiasi... È una priorità di tutti, però Parenzo, vediamo di essere chiari. Se noi oggi orientiamo l'azione di tutte le istituzioni nell'andare a raggiungere degli obiettivi, questo non è che un rafforzativo che fa bene. Quando io feci la prima riunione con i servizi segreti, quando mi chiesero qual è la priorità per il nuovo governo, io dissi prendere Messina Denaro perché avevamo due grandi obiettivi dal punto di vista internazionale. Il primo è mostrarci all'avanguardia contro la corruzione e di lì nacque, ricorderete, l'ANAC, affidata tra l'altro a un giudice che si chiama tuttora Raffaele Cantone. Nel senso che io non sono uno che celacco i giudici. Quando si è trattato di scegliere la posizione, la figura di riferimento per la lotta alla corruzione che ci serviva a livello internazionale per avvicinare gli investimenti internazionali, andai a chiedere a un giudice che adesso è il Procuratore della Repubblica di Perugia di occuparsi di questo. Dall'altro lato continuavo a pensare, lo continuo a pensare è che nel pregiudizio che c'era contro l'Italia, l'idea di prendere il capo dei capi della mafia fosse un valore educativo per i ragazzi. Scusi, la interrompo su questo, voglio restare sulla mafia, perché proprio Gratteri ha detto una parola molto chiara, cioè di mafia questo governo non parla. Allora, torniamo un momento a Gratteri e al progetto che avevate sulla giustizia e che non è stato portato a termine e alla denuncia che Gratteri fa quando dice di mafia non si parla più. Napolitano lo toglie dalla lista dei ministri. Chi ha esercitato pressione sul Presidente della Repubblica perché Gratteri non diventasse ministro di giustizia? Rispondo brevissimamente alla prima domanda rispetto al fatto che adesso il governo Draghi, il secondo Gratteri non parla di mafia. Io lo considero un giudizio ingeneroso quello che dà il procuratore Gratteri, ne capisco la frustrazione, egli aspirava, devo dire secondo me ha ragione, a poter guidare la procura nazionale antimafia. Il CSM ha scelto un altro, un professionista che peraltro ha lavorato anche con noi al governo perché era il capo di gabinetto di Orlando, si chiama Melillo, sicuramente Gratteri avrebbe fatto bene quel lavoro e quindi la sua frustrazione la capisco perfettamente. Dopodiché credo però che questo giudizio sia un giudizio ingeneroso nei confronti del Presidente Draghi. Invece la domanda che lei fa sul passato, sì con Gratteri io non condivido tutto quello che dice Gratteri come lui non condivide tutto quello che dico io, però avevamo un'idea che era quello di scardinare il potere delle correnti. In questo libro io non parlo di me e dei miei processi ma parlo del fatto che alcune correnti fanno il bello e il cattivo tempo nella magistratura. viene una magistratura democratica che dice intorno a Renzi va messo un cordone sanitario, questo non va bene perché se uno commette un reato lo devi perseguire, ma non è che metti i cordoni sanitari. L'idea di Gratteri era scardinare tutto il sistema. Chi è che è intervenuto? È chiaro che questa domanda andrebbe fatta al Presidente Emerito della Repubblica più che a me. Io ho rispettato la Costituzione e lui ha rispettato la Costituzione dicendo no a Gratteri, quindi ovviamente se lui non controfirma non si fa. Però posso dire dei nomi, quelli che io immagino essere dei nomi e in qualche misura non immagino soltanto. È noto che Gratteri, diciamolo con un eufemismo, non godeva delle simpatie dell'allora Presidente del Senato, Piero Grasso, tra l'altro nel libro, sempre per farsi nuovi amici, racconto di come Piero Grasso vada a una conferenza stampa ancora procuratore, ancora magistrato prima di fare Presidente del Senato e dica di Silvio Scaglia e dell'indagine che lo coinvolge che quella è una strage della legalità. Penso che Grasso si debba vergognare per quelle parole. Scaglia è stato assolto e mentre Grasso era Presidente del Senato e l'allora Gup, che aveva messo in carcere Scaglia, era membro del CSM, Silvio Scaglia, Mario Rossetti e tanti altri furono assolti perché quella indagine era uno scandalo totale. Scusi, lei pensa che Napolitano non avrebbe comunque tenuto Gratteri se il Partito Democratico fosse stato d'accordo? Cioè è bastato Grasso a dire no? No, beh, Grasso, Pignato. Beh, guardi, il Partito Democratico in quel momento era rappresentato dal segretario e quindi il punto contro Gratteri non era il Partito Democratico. Naturalmente le valutazioni che può fare il Presidente della Repubblica vanno rispettate perché questo è un paese, così lo spieghiamo anche a qualche aspirante statista, che promosse l'impeachment quando in altra circostanza il Presidente della Repubblica, in questo caso Mattarella, depennò allo stesso modo un ministro, in questo caso Savona, all'economia. Si riferisce a Di Maio? Si, mi riferisco a Di Maio e faccio i complimenti alla regia perché prima ancora che lo dicessi avevamo già andato in onda. Però devi sapere che nel libro Renzi in realtà lo elogia. Il regista ha letto il libro, diciamo la verità. Lo elogia, anche la regia, ma in realtà Di Maio nel libro viene elogiato da Renzi in qualche modo perché dice che ha fatto qualche corso di recupero ed è diventato bravo stando alla Farnesina. Anche Berlusconi viene abbastanza elogato. Bravo, attenzione, Di Maio, qui c'è un grande tema, i Cinque Stelle hanno cambiato idea su tutto e Di Maio ha utilizzato la Farnesina come uno straordinario corso di recupero, meglio del CEPU. Però intendiamoci chiaramente, intendiamoci chiaramente, Parenzo, questi hanno cambiato idea sul garantismo, sulle Olimpiadi, sul TAP, sulla TAV, sulle infrastrutture. Cioè il Movimento Cinque Stelle, per come si era presentato alle elezioni, quelle che peraltro ha vinto nel 2018, è riuscito a cambiare idea su tutto. Senta Renzi, pancano pochi minuti, le voglio fare una domanda su una frase di Andreotti folgorante che lei mi ha fatto tornare a mente in queste pagine e che è la sindrome del beneficiario rancoroso. Cioè è proprio una definizione che mi ha fatto la mia giornata, come dicono, mi ha fatto la giornata. Quando mi sono ricordata di Andreotti che parla della sindrome del beneficiario rancoroso che è, diciamo, universale, tutti la conoscono. Se tu fai del bene a qualcuno, quello poi, diciamo, diventi la misura millimetrica. Cioè gli stai dando del rancoroso. No, lui dice di essere oggetto di rancore da parte di molte persone che hanno beneficiato dei suoi favori. Uno di questi è Davide Armini, ma non scendiamo nel dettaglio sottile delle pagine del libro. Parliamo del futuro della politica. Chi potrebbe essere ancora rancoroso nei prossimi mesi, tanto da far cadere questo governo e cosa potrebbe succedere in questo paese? Diciamo che nel mio caso la sindrome del beneficiario rancoroso direi che è esaurita, visto che l'elenco delle persone è straordinario. Andreotti diceva che quando fai una nomina ti fai 100 arrabbiati e uno in grado, che è una cosa straordinaria. Avendo fatto qualche nomina io nel corso della mia vita, condivido molto la riflessione. Andiamo all'attualità. Io le dico la verità, non credo che nessuno metterà in discussione il governo Draghi. Cioè, questo balletto, mentre la politica, avete iniziato su quello, della guerra pone dei problemi enormi, dalla carestia all'immigrazione, dall'energia allo spostamento dell'asse geopolitico, in Italia sembra un balletto di piccoli personaggi in cerca d'autore. Mi spiego, quando noi diciamo che Giuseppe Conte vuole far cadere il governo e lo dice perché si prepara il 21 giugno a fare una mozione in Senato sulle armi, ci sta tutti prendendo in giro. Se lo lasci dire da chi un governo lo ha fatto cadere, cioè da sottoscritto... Ma guardi, per far cadere il governo, Parenzo, tu devi ritirare i ministri. Allora, proviamo a essere laici e logici nell'argomentazione. Diamo credito a Conte, io faccio un po' fatica, ma do credito a Conte. Diciamo che Conte davvero, genuinamente, ritiene sbagliata la politica sulla guerra da parte di Draghi, ok? Vogliamo prenderlo sul serio? Se è così, Conte non deve fare le dirette Facebook o i comizi nelle piazze semi vuota. Dove chiamare il ministro degli esteri e dire, caro ministro degli esteri, fai una cosa, siccome tu sei di 5 Stelle e io non condivido la linea del governo, dimettiti. Ora, se a Di Maio dicono che si deve dimettere, io lo troviamo incatenato alla Farnesina per i prossimi 22-23 anni, col cavolo che Di Maio si dimette. Ma la stessa cosa vale se per caso Conte non condivide il fatto che Draghi non vada in Parlamento. al ministro dei rapporti col Parlamento, casualmente grillino, se non condivide le questioni legate alle grandi sfide geopolitiche dell'alimentazione, c'è al ministro dell'agricoltura, c'è Conte, allora diciamola così, caro Conte, o fai dimettere i ministri o ci lasci vivere in pace. Vogliamo sapere lei cosa vuole fare, si parla di questo nuovo partito con la R rovesciata come nella copertina del libro, sarebbe un'operazione di marketing straordinaria. Ci sono molti nuovi partiti in vista, un po' sempre gli stessi nomi, diciamoci la verità. Cioè ci sarà Italia Viva? Un po' sempre gli stessi nomi. Questo, ci sarà il partito Italia Viva? La mia opinione è che quello che ci sarà alle elezioni tra 11 mesi in questo momento non lo sa nessuno. Se dovessi per un attimo svestirmi dai panni di senatore e mettermi quello di vostro commentatore politico a distanza, farei questo quadro rapidissimo. È in crisi la destra, perché comunque Salvini, lo diciamo tutti, non vive il suo momento migliore. Forza Italia non si sa che cosa farà da grande, Berlusconi non ha sette vite, ne ha 77, però dal punto di vista politico il grande slancio che ha caratterizzato Forza Italia negli anni 90 e poi all'inizio degli anni 2000 sembra un po' affievolito. La Meloni pare avere un soffitto insuperabile per la sua origine, per la sua provenienza, ma anche per il fatto che comunque, sono tutti a dirle, è in grande spolvero ma è appena sopra il 20% dei sondaggi. Dall'altro caso c'è un soffitto insuperabile. Io penso che un partito come Fratelli d'Italia, secondo me, oltre una certa percentuale non andrà mai. Da solo no, ma si potrebbe alleare con qualcuno e fare un governo, perlomeno credo che Giorgia Meloni... Questo l'hanno già fatto in passato, Giorgia è stata una dei più giovani ministri della storia, ha fatto la ministra della gioventù, che se non vado errato aveva 31 anni, è stata vicepresidente della Camera 26, però se conosco Meloni, secondo me come Fratelli d'Italia può fare tutte le convention a Milano che crede, ma non riesce a competere al centro, mettiamola così. Quindi chi le vince le prossime elezioni, Renzi? Abbiamo il super spot, perché qui non c'è il canone, Renzi, se lo ricordi, abbiamo fatto pubblicità al libro, ci fai dire così, se prende anche il canone, chi lo sente più? No, no, qui c'è la pubblicità, ragazzi. Allora, prego Renzi, siamo davvero in chiusura, a pochi secondi. Concludiamo questo scenario, chi vince non si sa, ma la sinistra che fine fa? E anche il centro-sinistra deve decidere, perché Enrico Letta sta facendo un lavoro serio, io gliene do atto, ha avuto una posizione sulla guerra molto saggia e molto solida. Dall'altro lato però Letta deve capire se stare o no con questi 5 stelle, i quali 5 stelle sono in costante divisione tra di loro, allora, e finisco su di noi. Noi chi siamo? Siamo quelli che negli ultimi anni sono stati, sì, certo accusati di essere dei mostri, ma che nel merito delle questioni hanno al momento detto le cose su cui stanno arrivando tutti. Perché? Che serva il lavoro e non i sussidi, che si debba fare le infrastrutture. Vabbè, non si autoelogi Renzi, era più bello quando faceva il commentatore. No, lo possiamo dire con una battuta finale. Con una battuta finale, lo possiamo dire così, Renzi aveva un progetto che era quello di fare del Partito Democratico quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi. Questa era l'idea con cui nasceva Italia Viva. Ora però, Renzi, le cose sono un po' opposte, cioè il PD è il primo o il secondo partito, quindi quel suo progetto... Io penso, guardi, allora la dico con una battuta al volo così facciamo in tempo a chiudere in modo serio, io penso che nella prossima legislatura, quella che andrà dal 23 al 28, quest'area, lei la chiama Aria Macron, io la chiamo con lei Aria Macron, sarà decisiva ancora, quindi noi saremo anche al prossimo giro decisivo, però c'è un punto, noi dobbiamo smetterla con questo meccanismo di persone che in Parlamento fanno e disfano i governi, e lo dico per primo io, l'unico modo è avere un sistema elettorale come quello dei sindaci. Va bene, io voglio solo sapere, per concludere con un sì o un no, se lei può stare ancora in un posto nella stessa stanza insieme a Enrico Letta. Assolutamente sì. Perfetto, grazie Renzi, evviva, ci vediamo. Noi ci vediamo domani.